Ciao a tutti ragazzi, io sono Babi Sbagli e qui con me c'è Massimo, saluta! Oggi ci ritroviamo su Super Hexagon Allora, queste due mappe le abbiamo già completate, quindi passiamo direttamente a questa No, mi prego, fa schifo Attenzione, porca miseria È un big fail, regà Ssh, e basta! Fa schifo Ti fai schifo Non è vero, non so che fai schifo Guarda che abbiamo fatto fa... Da fermo, fermo, oh, fermo, t'ammazzo LOL, epico, regà Voglio 10.000 like per questo Fanno bene anche tipo 10, anzi uno solo Secondate chi è quel benefattore che mette sempre like ai miei video? Io La storia epica finita malissimo Ragazzi, mio Dio, dobbiamo resistere a 60 secondi e non ce la facciamo a fare più di 6 Incredibile, è incredibile, è incredibile, veramente? Assurdo, cioè, è proprio... Oh! Ah, peccato Eh, no, se lo avevo... Oh, Dio Questo non lo metto su YouTube, davvero? No, non lo metterà per su YouTube Oh! Oh, oh, oh! Attenzione! Oh, oh! Musica epica Nooo Nooo Tipo poi ci rimane male quando... Quando... Quando la falange romana Esatto Perché lui è il più brutto della falange romana Uh, doggia Attenzione No, doggia è troppo... Oh, eh, che cazzo Eh, eh, eh Ah, quasi, quasi, quasi Adesso c'è così, ogni volta che sbagli un cucchiaino di Nutella Eh, ecco, un cucchiaino di Nutella No, questo lo devo mettere in forza Un cucchiaino di Nutella Attenzione No, non la voglio mangiare Nooo Eh, mangio, mangio Ah, eh, mangio Ah, eh, mangio Ah, eh, è una cazza in realtà Che buona Eh, eh, scherzo epico Attenzione Ah, ma, 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 è confuso Oddio, oddio, oddio Oh, ha passato Attenzione Nooo Nooo Ma ragazzi Andiamo direttamente al più difficile Regà, epico Eh Attenzione Con le luci psichedeliche Stereostopiche Oh, ho sbagliato Ha sbagliato Nooo Tipo le psil... No Eh Oh, ho sbagliato 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 Oh, ho sbagliato